Io sono Valeria Genova e sono founder e director della Chiave di Sofia, che è una rivista online dedicata alla filosofia applicata alla quotidianità. La filosofia è sempre considerata quasi prestamente un campo maschile, quindi è un po' difficile vedere la donna filosofa, però diciamo che con questo progetto sto scoprendo che non è poi così difficile farsi strada in questo campo, anche perché è un'idea nuova e quindi non c'è tanto contrasto dalla parte maschile. Direi che il consiglio più importante è quello di credere in quello che fa e di non sentirsi diversa, perché spesso la filosofia ti fa sentire strana rispetto agli altri perché approfondisci temi che magari agli occhi degli altri sono temi o profondi o comunque palesi, le risposte si trovano palesemente, invece noi viviamo nella frustrazione, nel continuo dubitare, nel continuo domandare e quindi dico di non scoraggiarsi di questo e di non sentirsi appunto diverse per questo, perché è proprio il bello invece della vita, perché ti porta alla scoperta, all'esplorazione e alla realizzazione di nuovi progetti.